Il primo di giugno, nell'ottica della rotazione in atto, tornerà il medico del 118 di notte? C'è la necessità di riorganizzare la struttura sanitaria, quindi è possibile che in via sperimentale possiamo passare con una organizzazione diversa, dove potrebbe non essere a Venafro o non essere a Dagnone, ma in una struttura ancora più centrale, così come possiamo rivedere il sistema, lasciare le cose come stanno, le postazioni e poi, come dire, nel momento in cui il medico sarà carente, non ci sarà in quella determinata giornata il medico. Altro che in rotazione, il 118 del Santissimo Rosario di notte resterà senza medico. È quanto sembra emergere dalle parole del direttore generale Giovanni Di Santo, intervenuto ieri sera con i vertici ASREM al completo all'Assemblea pubblica di Venafro, con il sindaco Ricci, il comitato Santissimo Rosario, medici, infermieri del 118 e dipendenti del locale ospedale. Nella sala dell'ex Palazzo Armieri più addetti ai lavori che semplici cittadini. Prima la buona o la cattiva notizia, i dirigenti ASREM hanno optato per la premessa ottimista e dunque, a distanza di anni al Santissimo Rosario è tornata operativa tutti i giorni radiologia, riattivata diabetologia e poi annunci circa l'apertura della RSA, l'aumento dei posti letto in riabilitazione e in fase di montaggio un mammografo. Ma poi, sull'argomento centrale, il 118, la doccia fredda come i numeri. Per garantire il medico H24 sulle 16 postazioni regionali ne occorrerebbero 96, in organico sono rimasti in 38. L'unica possibilità, rimarca di santo, una riorganizzazione, il più possibile funzionale dell'emergenza sul territorio. Concretamente che vuol dire, al momento, nessuno lo sa. Bisognerà attendere l'esito del confronto tra struttura commissariale e ASREM in programma per domani. D'altra parte, come ribadisce il direttore generale, Giochiamo una partita importante, noi questo lo sappiamo. Se avessimo i medici non staremo qui in questo momento. Contrafacta non vale l'argomento. Di fronte al fatto non vale il ragionamento.